Buonasera signore e signori, vi presento, sono Tony e siamo qua per prove e provini. L'altro giorno è capitata una cosa strana, siamo entrati in una pasticceria e una signora mangiando ha trovato un pelo d'ascella sotto una fetta di cassata siciliana. Irritata, la medesima è andata all'interno del laboratorio chiedendo come mai questo pelo d'ascella si trovasse all'interno della cassata siciliana. Il pasticcere disinvolto risponde, signore mia è meglio che non vedo come facciamo ai squizzeri cannola. Grazie a tutti.